Sono Francesco Galli, amministratore delegato del gruppo ospedaliero San Donato. Direi che in sintesi quello che abbiamo oggi detto e che io chiedo assolutamente ai ragazzi sono alcuni punti fondamentali, naturalmente fatto salvo le competenze che sono fondamentali ma che vengono apprese in università e nei master, ma fondamentalmente bisogna uno, non avere paura di far fatica, perché oggi in palestra si va la sera o la mattina presto non si va durante il giorno, si lavora. Due, il fatto di dover essere pronti ad andare all'estero, perché l'estero ci sta chiamando perché il sistema sanitario nazionale e il welfare state ormai vive in pochissimi paesi. L'Italia è una di questi, tutto il Medio Oriente e i paesi ricchi vogliono e sono curioso di capire come noi facciamo con così poca spesa a fare gestione sanitaria. Mi raccomando, parlate l'inglese assolutamente perché questa è una cosa fondamentale, non abbiate paura della competizione perché una sana ambizione è fondamentale. L'ultimo, mi raccomando, prima di tutto e veramente e soprattutto usate la testa, non date mai dati senza esservi chiesto perché, ma fondamentalmente ogni cosa che fate chiedetevi perché, prima di portare al vostro capo, perché sennò vi ammazza.